Il problema delle microdiscariche si risolve innanzitutto mettendo in campo un'azione di prevenzione che parta dalle scuole per fare capire che sporcare il nostro bellissimo territorio è un danno che facciamo prima di tutto a noi stessi e alle generazioni che verranno dopo. Poi bisogna rafforzare e migliorare il sistema infrastrutturale, quindi realizzazione di impianti che permettono di smaltire i rifiuti in maniera efficiente e continuare su una strada che è già stata imboccata e che ci deve portare ad uno standard che sia veramente europeo. Ancora siamo distanti da questo obiettivo ma stiamo percorrendo quanto più possibilmente in maniera veloce questo tragitto che ci separa dalla meta. Va bene, fermiamoci.